Ciao a tutti e benvenuti, bentornati in GTA V! Allora, a grande richiesta mi avete chiesto appunto di fare delle missioni, quindi vi accontento, vi accontento e vediamo che missione devo fare perché ne ho parecchie, aspetta, controllavo, ne ha 3, 3 e 2, ok, quindi lui ne ha 3, controllavo che missione potevamo provare a fare. Allora, c'è questa penso della D e questa nella S, che appunto sono due missioni, non lo so come sono, magari sono difficilissime, però vabbè, sa, proviamo questa della S, non so, mi ispira, andiamo a mettere il punto bene e andiamo, prendiamo la macchina, è una bella giornata di sole, guardate che bello, è anche vicino perché è 800 metri, provo sempre la radio, a stanza di equivoce, di quibici, io qua guido come guido, abbiate pazienza ma non rispetto la segnalitica, passo anche in seconda corsia, in contromano, le faccio tutte, dunque, passiamo su mazzapiede, così si taglia, ops, 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 certe macchine hanno una stabilità orribile e questa è una di quelle, allora, S si trova qua, quindi adesso mi parcheggio a mano modo qua, questa mi ha guardato male perché mi dice, ma chi sta a fare? Allora, qua c'è una S, vediamo un po', proviamo a vedere se per caso è qua dietro, allora, ecco, si entra di qua forse, andiamo a vedere, eccolo qua, parte in automatico il video, quindi, vuol dire che c'è una missione, spero che riusciate a leggere perché io, salve, entra, grazie, si, si, aspetta un secondo che abbasso leggermente, ma proprio leggermente, andiamo a cosa dobbiamo fare, si, si legge, meno male, perché io non riesco mai a leggere bene, da qua, perché sono un po' ciecata, fare di orione, due, cosa fanno, giocano, ecco, David, mi aveva un grande fan, dimmi, di farmi fuori, no, affatto, meno male, vediamo cosa ci chiedono di fare, mai lavorare con bambini animali, non lavorare mai con registi e attori, questo film mi farà morire, ma di che parla? Perfetto, devo fare un film? È molto perplexo, è più vero talento, scherza, perическая app, E' un po' basso l'audio, però dovrei trovare il volume della tv. Voilà. Ah, un nuovo assistente. Già ti adoro? Ok, raggiungi Est Los Santos. Speriamo questa macchina che mi piace un sacco. Sperando che non sia quella che mi ha appena dato il lavoro, se non inizio molto bene, dirubo la macchina. Allora, via la radio. Allora, olle. Allora, si apre o non si apre? Si apre anche la sbarra, che bello. Andiamo. Ah, mazza, due chilometri e passa. Allora, stoppo e vi faccio vedere quando arrivo. Ho ripreso perché mi hanno chiamato, bene. No? No, non vuole che non macchi strano. Scusate che non parlo, lo sto leggendo anch'io cosa dicono. E qui devo guidare. Ok. Nuovo contatto. Siamo corrosso. Yuhu! Ok, 400 metri, siamo arrivati. Scusate. Allora, adesso è qua. Vediamo dove è il puntino giallo. Eccolo lì. Ok, vediamo un po'. Non ho ancora capito cosa devo fare. Eeeh, l'elicottero. Scusate, a terra. L'attore. O sono andati a prendere l'attore, mi sa. Oh, come l'impressione che mi dovrò entrare. ormai conosco il gioco raggiungi e li porto non si apre come faccio? ah ok in maniera molto tradizionale allora qua già c'è un nemico vediamo un po' se posso passare di qua no è chiusa allora ma io non so se posso farlo fuori ho capito? ok se posso farlo aspetta forse devo fare tutto piano piano e la feri tu non mi ve e ma qua cosa fa ancora? e no cari no e dove raggiungo l'eliporto che là è chiuso qua non posso andare forse mi devo arrampicare fa anche lì ma e no mi dispiace devo fidarsi di andare e invece no madonna è pieno di ok via da qua mamma mia praticamente mi stanno dicendo uccide i nemici ah posso ucciderli quindi allora prendiamo la pistola silenziata non era silenziata forse c'era la silenziata dov'è ecco missione fallita perché Rocco è stato allertato eeeh riproviamo riproviamo quindi devo ammazzarli subito perché a volte se diciamo li ammazzi ti dice poi che hai fatto una cavolata quindi allora adesso prendiamo il iniziatore qua piano piano prendiamo un po' ah proprio così da cecchino ma quanti ce ne hai due? eeeh come faccio con due? non sei rapida allora uno ah l'altro mi scappa no eh no ma porca miseria allora proviamo un altro approccio ovvero proviamo a non ammazzare nessuno eeeh si proviamo a non ammazzare nessuno andando molto molto piano molto molto piano senza farci vedere anche se già a scavalcare la rete ecco sono entrato proprio sopra proviamo allora c'è la modalità furtiva che è questa proviamo proviamole tutte però vedi che mi già poi devo saltir cioè devo salirvi sopra come fanno a non vedermi? vai 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 veloce 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 dai che forse non mi hanno visto ok loro non mi hanno visto ora c'è questo qua che però devo stare molto attento si furtivo fai il furtivo se no allertano quello là mamma mia che missione strana che missione beccata qua dove devo andare tra l'altro dovrò andare di qua ma come allora dove è il nemico? è là proviamo a farlo passare magari non non mi vede no ma tornerà indietro puoi capire mamma mia aspetta un po' eh fai un po' di casino no? madonna mia devo raggiungere la scala? non so se ce l'ha fuori io ve lo dico giù 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 nasconditi qua se non mi vede è un miracolo eh piano piano perché forse non mi ha visto qua anche ci saranno no e dov'è? intanto mi hanno già visto intanto mi hanno già visto vedete? uffa ma che missione del cavolo cioè se ne ammazzo prima cioè se ne ammazzo prima mi beccano se ne ammazzo dopo mi beccano ok ho visto che posso saltare questa parte perché dopo un po' per fortuna te la fa saltare e quindi andiamo nella missione più eh avanti diciamo fortunatamente c'è questa opzione dopo 3 o 4 volte che non ce la fai ecco adesso chi è questo coglione? ecco e tu? ahia cosa devo fare a pugni? ok aspetta Rocco ammazza è bello resistente Rocco eh tu lasci in pace la mia gente io non ti do tiro giù da questo tetto va bene? ok l'incocetto adesso torniamo agli studi scari con l'elicottero devo guidare io? no dimmi di no sì ovviamente devo guidare io dove devo andare? non so dove dove andare ragazzi provi devo convinci volando in modo spericolato ah beh questo è più facile è proprio una gente a terraria spaventa volando ad alta velocità tutti i ponti pericolanti ho azzeccato la missione giusta ragazzi non sono capaci di fare queste missioni sono più desperatorie queste non ci sono neanche i ponti dove sono i ponti? wow sto guidando troppo bene il ponte è là ma io finisco altra velocità dovrei passare sotto sto ponte io non ce la faccio ve lo dico mi schianto sicuro è una cosa che posso posso provare a fare questo dopo l'alzano di brutto e poi l'alzano di brutto non ci credo non ci credo oh guardate c'è anche il pallone aerostatico proviamo piccolo basta basta farò tutto quello che vuoi stop avete recuperato il buon senso e vi porto allo studio bene adesso il problema sarà a terrare allora lo studio è di là e dobbiamo andare e dobbiamo andare l'alzano di brutto e poi dobbiamo atterrare è bello però è volare ragazzi sì il problema è che io non so bene atterrare ve lo dico quindi la vedo dura dove sono gli studi dovremmo essere di là allora mettiamo no bisogna abbassarci un po' li abbassiamo un pochino piano lo stanno forse là devo farlo atterrare no invece una piscina direi di no dove cacchiarola ah là 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 ok ho visto il posto ho visto il posto è già qualcosa vediamo eh piano 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 brai ce l'ho fatta non ci credo cc come? ma perché? ma se vi ho portato mamma mia perché non è messo bene cioè vabbè io ok ah raggiungi l'ufficio di Salomon ok adesso per una volta che atterro decentemente mi hanno fatto ma è dove ero prima sì ok andiamo di là adesso andremo a dirgli sì ce l'ho fatta l'ho spaventato questo non ho capito dove stanno ma io non capisco dove devo andare qua l'ufficio ah di qua eccolo tutto felice non netto come l'ha convinto in fretta eh eh certo eh ma certo eh ma certo certo cioè divento un produttore associato oh sì tutto felice missione complicata abbiamo avuto qualche problema all'inizio però poi è andata bene quindi intanto passiamo wow la missione era il signor Richard bene ragazzi ragazze fatemi sapere se vi è piaciuta questa missione io adesso la chiudo qua questo video di 20 minuti e magari ne registro poi anche altre abbiamo avuto qualche problema all'inizio perché ovviamente come avete visto non avevo ben capito che non dovevo farmi beccare in nessun modo ed era un po' complicato perché qualsiasi cosa facessi mi beccavano però poi alla fine ce l'abbiamo fatta carina come missione niente male bene il video finisce qua noi ci vediamo al prossimo gameplay bye